Quindi la famiglia dei parenti, la famiglia dei colleghi d'ufficio, la famiglia del calcetto, la famiglia delle mamme, delle chat della scuola, proprio perché quelli sono i giorni in cui tutti scendiamo in piazza, scendiamo per strada e abbiamo voglia di stare insieme. Quindi cominciamo con i bambini, il villaggio di Babbo Natale a Piazza Umberto, l'illuminazione dell'albero il 6 dicembre in piazza del Ferrarese, laboratori, proiezioni di film per bambini, street band in giro per la città, fiabe, letture di libri, cominciando proprio dai bambini e poi anche per i più grandi. Ci sono dei concerti, concerti gospel, concerti jazz, concerti swing, un DJ set, tutto organizzato per farci stare insieme e quest'anno lo facciamo su tutto il territorio cittadino. Nei prossimi giorni insieme ai 5 presidenti di municipio presentiamo le attività dei municipi per il Natale, illuminazione, concerti nelle chiese, concerti per strada, attività sportive e le attività di RCU, le reti civiche urbane. Sono 100 eventi distribuite sui 14 quartieri. Nelle giornate importanti staremo tutti insieme nel centro cittadino, il resto dei giorni dal 6 dicembre fino al 6 gennaio avremo la possibilità di goderci il Natale su tutto il territorio della città di Bari.